Tra poco si comincia eh, voi pettinatevi, io vi ho già pettinato. Dare il via a questa grande presentazione. Una stagione importante di motociclismo mondiale. Siamo pronti a scoprirla signori, è lei, Black Kawasaki numero 31. Questo qua si chiama Pippo Velo e non c'è manco un velo, ma che Pippo Velo è? È un garocco, è un garocco, è un garocco. In questo caso la mia è una pigna d'affetto, è una pigna di ammirazione, è una pigna che vuol dire in bocca al lupo. Contro la 31, non c'è competizione, siamo tutti con te, forza campione! Grazie. Cala, città, stagà, città. Cala, calcà, città. Cala, cala. Grazie a tutti